Oggi vedremo come GPT-4, l'intelligenza artificiale più avanzata, potrebbe essere utilizzata per hackerare autonomamente siti web. Scopriremo i rischi e i risultati di questa tecnologia in rapida evoluzione. L'intelligenza artificiale ha fatto molta strada da quando un ingegnere di Google ha creato delle varianti psichedeliche della Mona Lisa nel 2015. Da allora l'IA ha conquistato immagini, testi e i video non sono lontani dall'essere inclusi. Tuttavia, la previsione che i novizi potessero usare armi informatiche basate sull'IA per attaccare il pianeta non si è ancora avverata, ma questo potrebbe presto cambiare. Nuove ricerche mostrano come GPT-4 possa essere utilizzato per hackerare autonomamente server, con un tasso di successo piuttosto alto. Questo è stato possibile grazie agli agenti LLM, Large Language Model. Un agente LLM consente a un'IA basata su testo di uscire dalla sua prigione testuale e svolgere compiti reali interagendo con strumenti esterni. Un esempio semplice con cui puoi giocare è chiamato Agent GPT. Gli puoi assegnare un compito, come compra 10 dollari di Monero, e lui scomporrà questo compito ad alto livello in più sottocompiti, cercando di risolverli. Tuttavia, nel caso della nuova ricerca, gli agenti non solo erano in grado di navigare sul web, ma avevano anche la possibilità di creare e modificare file. E naturalmente, avevano accesso a un terminale e a un interprete di codice. Una volta configurato, l'agente riceveva semplicemente l'ordine di attaccare un determinato sito web, sfruttando una particolare vulnerabilità. L'IA faceva riferimento all'avviso della vulnerabilità, leggendo la descrizione e le risorse, e poi utilizzava autonomamente tutti gli strumenti a sua disposizione per imparare come sfruttare la vulnerabilità, fino a hackerare il sito web. I ricercatori hanno testato 15 diverse vulnerabilità, ma nella maggior parte dei casi i risultati sono stati pessimi. Tra i vari modelli di IA testati, nessuno ha avuto successo, tranne uno, GPT-4, che ha ottenuto un tasso di successo del 40%. Tuttavia, se all'agente venivano concesse 5 tentativi, la percentuale di successo saliva all'86,7%. Questo è piuttosto inquietante, perché all'IA era stato fornito solo l'avviso della vulnerabilità come punto di partenza, che è completamente pubblico e contiene solo una breve descrizione della vulnerabilità e alcune risorse. Questo è stato tutto ciò di cui GPT-4 ha avuto bisogno per capire il resto autonomamente. Quindi, stiamo per vedere orde di principianti che utilizzano strumenti IA per sfruttare vulnerabilità, avendo solo accesso a GPT-4? No, almeno non ancora. Fortunatamente ci sono alcuni fattori complicati. Ad esempio, GPT-4 costa denaro e gli agenti LLM devono eseguire molte query. I ricercatori hanno calcolato che per sfruttare una singola vulnerabilità il costo in crediti OpenAI sarebbe di circa 80 dollari. Se a questo aggiungiamo il fatto che, su richiesta di OpenAI, i ricercatori non hanno divulgato i prompt che hanno utilizzato, è chiaro che ci vorrebbero molti soldi per sperimentare e arrivare a qualcosa che funzioni. Inoltre, ci sono state critiche sulle vulnerabilità scelte per i test. Ne hanno testate solo 15 e molte di queste erano vulnerabilità di basso livello, facili da sfruttare, quindi non rappresentano un campione realmente significativo. Quello che abbiamo visto oggi dimostra che l'intelligenza artificiale ha un potenziale straordinario, ma anche rischi significativi. Sebbene GPT-4 abbia mostrato di poter sfruttare vulnerabilità in server, ci sono ancora molte barriere da superare prima che questa tecnologia possa essere sfruttata su larga scala da malintenzionati. Tuttavia, è cruciale restare aggiornati su questi sviluppi, poiché il futuro della sicurezza informatica potrebbe essere fortemente influenzato dall'uso di IA avanzate. Grazie per averci seguito e non dimenticate di iscrivervi!